La Porta Grande Ieri siamo arrivati alla piazza. Chi è di un altro portale? No, non è un portale. Il Dorc della Porta Grande. La Porta da Sanghe. E chi la vuole dire la Porta da Sanghe? D'indica che avuto la storia di Dic, tutta la Giunta veniva a massacrare. Tanto da Sanghe che la diere ha sbagliato fuori questa porta. Cora? A tempo che gli Valdè vanno a essere massati e fanatiche della Chiesa Cattolica. Perchè riesce alla persecuzione della Chiesa? E si d'indica che gli Valdè da Piemonte vanno a venire. E' proprio così che vanno a massacrare persone. E chi viene fuori? Gli Valdè, solamente Valdè. E gli Valdè non erano più buoni raggiunti? No. Gli avevano una fede diversa, d'incuida Cattolica. E pensano che la si è massacrare persone? Ancora in Cielo si è massacrare persone solo per la fede. E la Gli Valdè ieri? No. Ieri a Paese della Guardia siamo tutti Cattolici. di Cattolica.